Io ho sempre avuto un debole per gli ufficiati. Permette? Prego. Lo sa che lei mi piace molto? Cos'è, fa la ritrosa? Potrei anche avere delle intenzioni serie, sa. Ma noi ci siamo appena conosciuti, io non so niente di lei. Sono pronto a mettere a nudo la mia personalità. Lei corre troppo, ancora non ha parlato con mio padre. A me se solo per questo... Cos'è, non risponde? Non dice niente? Ha mutolito, eh? Lo immaginavo. Ma che cosa stai facendo? Ringo! Vi giuro, signorina, che le mie intenzioni sono serie. Sì, scelto! Ma ti pare questo il momento di stare dietro alle donne? E voi che vi mettete dietro ai divani! Su, spitto, dobbiamo salvare la festa! Mi avete fatto male, hai! Oh! Ma che cosa stai facendo? Grazie a tutti.